E' importante concludere a rete inviolate perché nel giro di andata ci sono state delle volte in cui sono presi dei gol stupidi e questa squadra da due anni ha la miglior difesa del campionato e deve dimostrare sul campo che quello è il suo punto di forza. Oggi si prendono zero gol anche perché Santarelli fa almeno due parate incredibili e quindi bisogna essere sempre sul pezzo per perché uno vede il risultato dice 10 a 0, però Santarelli se non si impegna rischi comunque ogni tanto di lasciare dei gol che poi vanno a inficiare una prestazione che invece è di assoluto livello. La cosa importante è stata rispondere oggi ai risultati della settimana che quindi consentono al Cotton di andare in testa alla classifica per la prima volta quest'anno. E' un aspetto che ovviamente ci interessa perché è frutto di un lavoro di tutto l'anno. Adesso bisogna ovviamente mantenere la testa della classifica perché è costato tanto andarsela a riprendere. Dobbiamo stare attenti perché ovviamente siamo a metà campionato, niente è finito, però mettere la testa avanti e farlo nella volta in cui il campionato te ne rende la possibilità con un risultato così robovante è sicuramente un messaggio che ci piaceva mandare. Da adesso in poi sembra la solita frase fatta, però è importante pensare partita dopo partita senza farsi troppi programmi. Si scende in campo la d'Italia, all'andata c'è stato un 2-2 quindi è una formazione con cui finora abbiamo dimostrato di equivalerci. Starà al Cotton in campo dimostrare che magari si è più forti e saremo contenti col presidente Giuseppucci di incontrare l'amico Carlo Foschi perché è sempre un piacere incontrare queste persone sui campi della Lega Calciotto.